abbasso le tasse abbasso la scuola viva la libertà ma in questo periodo io sento tutti i politici che dicono meno tasse tasseremo di meno tutti 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 dalla destra alla sinistra non c'è un politico che non dica giù le tasse e abbassare le tasse abbasso le tasse e io serafino massoni che sono stato professore di filosofia e storia nei dicei e poi preside di ruolo nei dicei classici e scientifici abbasso la scuola viva la libertà e tra tutti primeggiano Matteo salvinico rispetto parlando e anche Giorgetta Meloni pure se giù Berlusconi non scherza ma pure gli altri pure gli altri anche Matteo Renzi anche Zingariti tutti abbasso giù 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 le tasse ma come ma è con le tasse che si pagano i carabinieri e con le tasse che si pagano i poliziotti e con le tasse che si parlano si pagano i finanzieri e con le tasse che si pagano gli infermieri del servizio sanitario nazionale e con le tasse che si pagano i medici del servizio sanitario nazionale e con le tasse che si pagano i maestri elementari e con le tasse che si pagano i professori trasferiemmane poi con le tasse che si pagano i scuole e con le tasse che si costruiscono le è con le tasse che si costruiscono le ferrovie, gli ospedali, le ferrovie, le infrastrutture e con le infrastrutture si permette alla gente di fare i soldi quelli che vogliono fare i soldi li fanno i soldi perché esiste lo Stato con le tasse e lo Stato con le tasse consente a quelli più bravi di diventare ricchi per cui la carta costituzionale dice che la tassazione è progressiva e Matteo Salvini se diciamo meno tasse bisogna abbassare lo stipendio ai poliziotti, ai carabinieri, ai finanzieri, i finanzieri sono quelli che combattono contro l'evasione fiscale si dice ma se le tasse sono alte la gente vale e no, per gli evasori fiscali ci stanno i finanzieri ci stanno perché è la carta costituzionale che dice che la tassazione è progressiva altro che flat tax, è progressiva la tassazione quindi che facciamo Matteo Salvini, che facciamo Giorgia Meloni? se vogliamo assumere i carabinieri e i poliziotti non si possono abbassare le tasse perché se le tasse le abbassiamo dobbiamo calare la paga ai carabinieri, ai poliziotti, ai finanzieri agli infermieri, ai medici, ai maestri elementari, ai professori, ai magistrati poi a tutti gli impiegati ministeriali, agli impiegati regionali, agli impiegati provinciali, agli impiegati comunali cosa facciamo? Abbasso le tasse, abbasso la scuola, viva la libertà ma lo dice la carta costituzionale che la tassazione è progressiva abbasso le tasse, abbasso la scuola, viva la libertà e con le tasse si fanno le infrastrutture ed è proprio grazie alle infrastrutture che ci sono persone che diventano ricche se per esempio un odontoiatra diventa ricco è perché ha potuto studiare all'università alla facoltà di odontoiatria ma la facoltà di odontoiatria è stata costruita con le tasse con le tasse di tutti, 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 tutti i cittadini sia di quelli ricchi che di quelli poveri e poi l'odontoiatra se si fa tanti quattrini e fa tanti quattrini grazie alle infrastrutture di cui ha beneficiato da studente e dopo pagherà di più la tassazione dice la carta costituzionale che è progressiva e questo vale per tutti i libri professionisti vale per le partite IVA le partite IVA vivono perché ci sono le infrastrutture la società ha costruito le infrastrutture e per fare le infrastrutture ci vuole la tassazione e la carta costituzionale dice che la tassazione è progressiva ma come? Abbasso le tasse? io dico abbasso la scuola viva la libertà ma non si può, c'è qualcosa che non quadra in tutto ciò Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Matteo Renzi eccetera no Matteo Renzi, volevo dire Matteo Salvini, Silvio Berlusconi eccetera la tassazione è progressiva lo dice la carta costituzionale e per gli evasori ci sono i finanzieri che sono pagati con le tasse e i finanzieri dovrebbero metterli in prisione gli evasori perché gli evasori sono dei veri delinquenti mi pare che sia così anche negli Stati Uniti e va bene dai, abbasso le tasse abbasso la scuola viva la libertà ok? a tutti i tanti saluti da Serafino Massoni a tutti i tanti saluti a tutti i tanti saluti a tutti i tanti saluti